Visita storica del presidente cinese Xi Jinping in Tibet è la prima volta in oltre 30 anni. La regione dal 1951 è stata in larga parte annessa alla Cina, mentre una piccola parte è nello Stato indiano. Il Tibet da sempre rivendica l'autonomia ed è critica nei confronti della Cina, vista come liberticida.